E' febbre da Super Enalotto, stasera nuova estrazione, nessuno ha centrato il 6 e nemmeno il 5 più uno martedì scorso ed ora il jackpot è salito a 331 milioni. Il Super Enalotto è arrivato a compiere 25 anni e dal primo concorso ha distribuito in totale 124 jackpot, tra le regioni più premiate alla campagna nel primo posto con 18 vincite, seguita da Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13, tra le città c'è Roma. Sono invece tre le regioni in cui non si è mai realizzato un save, Valdosta, Trentino Alto Adige e Molise.